A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Saranno effettuati a partire da domani i tamponi su circa 300 cittadini bengalesi residenti a Monfalcone per verificare eventuali contagi da coronavirus. Inizierà venerdì mattina alle 8 nell'Oratorio San Michele di Monfalcone l'attività di monitoraggio e prevenzione nei confronti di cittadini extracomunitari giunti a Monfalcone nell'ultimo periodo. In particolare per chi è arrivato nella città dei cantieri del primo giugno ad oggi. Sono circa 300 i cittadini bengalesi che si sottoporranno al test. La sorveglianza sanitaria è ormai consolidata ai tempi covid, infatti ha lo scopo di tutelare la salute pubblica e per tale motivo risulta fondamentale la collaborazione dei cittadini. I controlli prevedono l'esecuzione dei tamponi nasofaringei per rilevare l'eventuale presenza del virus covid-19. Sottolinea l'azienda sanitaria universitaria Giulia Nesontina che si è attivata assieme al comune di Monfalcone 30 i tamponi eseguiti allora per due giorni successivi. Oltre all'esecuzione del tampone e la misurazione della temperatura verrà chiesto di compilare un breve questionario fornito nella lingua madre. Sarà presente anche il personale sanitario del dipartimento di prevenzione che poi risponderà a dubbi e domande specifiche. Da parte della comunità bengalese di Monfalcone c'è stata fin dall'inizio collaborazione. Muhammad Ziaour Rahman Khan, presidente della Bangladesh Social and Cultural Association, ha sottolineato come stiano cercando di fare passaparola sulle regole da seguire usando anche Facebook perché non è bello quanto sta accadendo a Roma. Ringrazio anche la comunità bengalese che con noi sta lavorando. Infatti tutte le telefonate le stiamo attivando in questo momento sono tutti al centralino a telefonare perché abbiamo l'elenco di tutti circa 300 che dal primo giugno a ieri sono arrivati a Monfalcone per questa operazione. E intanto è stato rilevato oggi un nuovo caso di Covid-19 in Friuli, Venezia, Giulia. Le persone attualmente positive al coronavirus sono 108, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente in cura è in terapia intensiva mentre i ricoverati in altri reparti sono due e non si registrano nuovi decessi. Tra aprile e maggio le casse della regione hanno subito un crollo delle entrate per 133 milioni di euro in termini di minor gettito. L'ha detto l'assessore alle finanze Barbara Zilli a margine della discussione sull'assestamento di bilancio. Per prudenza ha aggiunto non utilizzeremo l'avanzo di amministrazione. Oggi abbiamo offerto ai commissari anche i dati oggettivi del minor gettito relativo ai mesi di aprile e maggio dove abbiamo assistito veramente ad un crollo delle entrate pari a 53 milioni per aprile e 80 milioni per il mese di maggio di quest'anno. Si riverbera questo su uno scenario che è già molto difficile dove la trattativa con Roma è aperta ma non è ancora giunta a conclusione e dove c'è una spesa sanitaria che ovviamente anche per le esigenze legate al Covid continua ad aumentare e aver bisogno anche di risposte statali. Il 2021 in particolare è la fonte ulteriore di nostra preoccupazione perché se dalle stime della Commissione europea che sono recentemente uscite si parla di un crollo del PIL di meno 11,2% per quest'anno beh guardi noi chiudiamo quest'anno sicuramente con meno 600 milioni di euro e l'anno prossimo avremo un crollo delle entrate di ulteriori 310 milioni di euro. Questo significa che non possiamo fare scelte di alcun tipo per i nostri cittadini e le nostre aziende. Non possiamo utilizzare l'avanzo di amministrazione frutto di un'economia che è andata bene nel 2019 in questa regione che potremmo utilizzare astrettamente in questa sessione di bilancio estiva ma che visti i numeri che le ho indicato è impossibile utilizzare perché la prudenza non è altro che responsabilità per vedere quello che accadrà. È di oltre 14,7 milioni l'avanzo complessivo che il servizio sanitario regionale ha registrato nel 2019 frutto dei risultati positivi di esercizio di 5 aziende su 6 e delle economie di spesa sulle attività sovraaziendali. Gli avanzi saranno reinvestiti nel servizio sanitario. L'ha detto il vice governatore Riccardo Riccardi specificando che delle 6 aziende attive sul territorio solo quella di Pordenone segna un risultato negativo nel 2019 registrando una perdita di 950 mila euro. Ha preso il via oggi la campagna di affissione in tutta la regione promossa da Forza Italia del Friuli Venezia Giulia per sostenere la nomina di Silvio Berlusconi alla carica di senatoria vita. Non ci possono essere formule risarcitorie per la persecuzione subita dal presidente Berlusconi ha dichiarato la coordinatrice regionale azzurra e deputata Sandra Savino ma occorre mettere un punto definitivo a quanto è successo. Chi crede nella giustizia e nella democrazia vuole una giustizia giusta in uno stato democratico. Per Savino la nomina a senatore a vita di Silvio Berlusconi deve siglare la chiusura definitiva di una stagione che ha esaltato l'uso politico della giustizia e vuole che sia proprio il suo Friuli Venezia Giulia a lanciare un segnale importante alla nazione. Bene la fiera unica ma ci vogliono un piano industriale e una legge della regione per sostenere il sistema e l'indotto. E questo è il commento di Renato Pugliatti alla proposta del presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo di creare una fiera unica regionale guidata da Pordenone. Servono un piano industriale e una legge regionale per sostenere il sistema fieristico del Friuli Venezia Giulia e il commento del presidente di Pordenone Fiere Renato Pugliatti alla proposta del presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo di dare vita a una fiera unica regionale con a capo l'ente più meritevole ovvero quello di Pordenone. Noi non siamo mai stati contrari a questo, anzi bisogna partire da un piano industriale importante perché non credo sia utile parlare e partire da delle posizioni, da delle allocazioni o da delle persone. Giovanni D'Apozzo ha ragione sul fatto che la nostra regione ha bisogno di una fiera unica e di una fiera che supporti tutto il nostro territorio. Per questo è importante che parta da una iniziativa della nostra regione da una rivisitazione sotto la regia magari dell'assessore Bini per creare una legge regionale che valorizzi il lavoro delle fiere e il turismo che da esse si sono generate. Pugliatti ha poi presentato la fiera, l'evento che nel weekend dal 23 al 25 ottobre, dal 30 ottobre al 1 novembre animerà il quartiere firistico Pordenonese, un'esposizione a 360 gradi che toccherà diversi settori dalla gastronomia alla casa, dall'auto alle delizie all'infanzia con un ricco programma di eventi per le famiglie. Cerchiamo di partire da questa che è una nuova fiera e come payoff ricominciamo da noi. È importante avere questa fiera che inizi il percorso di tutte le fiere dell'ultimo periodo dell'anno. Condannata la donna che ha causato la morte di un 47enne di Cavazzo Carni con Massimiliano Pillinini a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale di Udine ha condannato la giovane di 22 anni di Tolmezzo Gcile iniziali a un anno e quattro mesi. Versa in gravi condizioni un quarantenne punto stamattina da una vespa ad Aiello del Friuli. L'uomo ha perso i sensi per shock anafilattico. E' stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in ospedale in codice rosso. Ancora cronaca principio d'incendio. Questa notte nella stazione ferroviaria Diugovizza nel comune di Malborghetto Valbruna l'allarme è scattato attorno alle quattro per un principio d'incendio che ha riguardato il locomotore di un treno merci con 17 vagoni, carro, cisterna con olio combustibile in arrivo dall'Austria e diretto a Marghera. Si è trattato probabilmente di un guasto di natura elettrica che ha causato fume e la produzione di fiamme limitate ad una parte del locomotore. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia ferroviaria e carabinieri oltre al personale di RFI. Il locomotore è stato staccato dal resto del convoglio e messo in sicurezza in un'area isolata della stazione ferroviaria. Nessuna persona è rimasta ferita. Questa mattina è partito il cantiere che trasformerà l'inutilizzata area verde di via Castions di strada a Udine in un nuovo parco giochi. Un nuovo parco giochi sorgerà nel quartiere San Paolo Santosvaldo a Udine. Con un importo di 120 mila euro il comune ha deciso di attrezzare il giardino pubblico vittime dello scoppio di Santosvaldo in via Castions di strada. Questa è la prima area verde dopo più di 15 anni che attrezziamo. e da area verde semplice la trasformiamo in area vivibile. L'area servirà a circa 6.000 cittadini, sarà illuminata e impreziosita da panchine, giochi per i bambini, fontane e percorsi per biciclette. Abbiamo puntato essenzialmente sulla sicurezza. Prima di tutto la vogliamo illuminare e poi verrà praticamente riservata nelle zone per quanto riguarda lo svago per i bambini con dei giochi dell'altalene. Inoltre ci sarà un percorso calpestabile che attraverserà all'interno del parco e a nostro avviso è un nuovo modo per godere il borgo, il borgo San Paolo, il borgo Santosvaldo. Quest'area verde permette di avere un'aggregazione di più persone di tutte le fasce d'età. Oltretutto essendo anche illuminata crea un deterrente per eventuali situazioni negative. Vacanze in quota, Promoturismo presenta Montagna 365. Montagna 365, il piano di Promoturismo FWG per le zone montane, si estende anche alle Valle del Natisone, al Carso, sia goriziano che triestino. Così si punta a creare una vera e propria rete tra le numerose realtà e proposte turistiche della fascia montana regionale. Significativa la presentazione nel cuore del Carso a Castelvecchio di Sagrado, storicamente già noto per le vicende belliche della Prima Guerra Mondiale. Il progetto parte da distante con la presentazione del piano Montagna 365 con un obiettivo che era quello di coinvolgimento di tutti quelli che erano le diverse realtà territoriali della nostra montagna. I sei poli montagni e le dieci aree sono state coinvolte nell'arco di questi ultimi mesi in una forma di progettazione partecipata con incontri territoriali non solo sugli stakeholder ma su tutti gli operatori. Oggi quello che presentiamo è un progetto di animazione territoriale di grande valore. Presentare quello che abbiamo chiamato quota 1300 che non è un'altitudine ma è il numero, in realtà il numero è 1308, di attività che come Prometurismo FWG quest'estate abbiamo deciso di sostenere un programma di manifestazioni, di trattenimento per tutti gli ospiti che appunto hanno scelto di frequentare quest'anno la montagna. Una montagna da godere tutto l'anno come dice il nuovo sito nostro che è online dal primo di luglio, quindi una montagna per l'estate e per l'inverno ma anche per le primavere e per l'autunno. Quindi una montagna che si allarga sia nel senso temporale di fruizione delle esperienze ma anche una montagna che esce dai famosi sei poli invernali e si allarga a dieci aree della nostra montagna del fluido Venezia Giulia. Dalla montagna alla costa con l'annosa questione dei canoni demaniali delle marina. La ragioneria generale dello Stato ha bocciato l'emendamento che avrebbe dovuto risolvere un problema che prosegue dal 2007, ovvero da quando il governo Prodi ha previsto l'aumento dei canoni demaniali per un introito di circa 30 milioni. A rendere nota la notizia sono Confindustria Nautica e Federturismo Confindustria, Assomarinas e Assonat Confcommercio, le quali attaccano i provvedimenti del governo e delle agenzie governative che proprio all'indomani della ripartenza post lockdown colpiscono duramente la nautica e in particolare il suo segmento turistico con tutto l'indotto a esso collegato. Ad essere coinvolte in regione sono Marina Punta Faro, il Porto Turistico Marina 1, la Marina Punta Gabbiani, tutte a Lignano e a Grado Porto San Vito. Con la norma introdotta da Prodi e bocciata da tutti gli organi di giudizio, in sostanza i canoni sono quadruplicati in maniera retroattiva. Alcune società avevano deciso di non pagare presentando ricorsi arrivati fino al Consiglio di Stato e il governo aveva cercato di risolvere la vicenda con un emendamento al decreto Semplifica Italia, ma gli uffici tecnici alla fine lo hanno bocciato. Udinese è in campo stasera contro la SPAL per ristabilire le distanze di sicurezza dalla zona rossa. Gotti punta in attacco sul Magic Moment di Lasagna, affiancato da Okaka, fischio d'inizio a Ferrara alle 19.30, subito dopo il Tg Spazio a Poltronissima per seguire la gara in diretta. Proprio per questo oggi noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, buona serata.